Eccoci qua, buongiorno a tutti. L'altra volta abbiamo parlato della pulizia delle orecchie, oggi voglio parlare della pulizia delle pliche. Per questo io vi consiglio il Clorexiderm Gel. Come andiamo ad applicarlo? Allora, vi ricordo intanto che la clorexina è un disinfettante, quindi non deve essere applicata sull'occhio, assolutamente no, deve essere applicata sulle pliche che noi vogliamo andare a pulire per evitare che si vadano a creare delle infiammazioni nelle pliche. Come facciamo? Allora, prendiamo un pezzettino di cotone, andiamo a mettere un pochino di gel, lo mettiamo qua, vedete? Mettiamo un pochettino di gel e poi con questo lo andiamo ad applicare sulle pliche, stando molto attenti a non andare a toccare l'occhio. Quindi con questo noi andiamo a disinfettare le pliche, le allarghiamo leggermente, sia da una parte che dall'altra e andiamo a disinfettare. Ora perché il cucciolo, ovviamente piccolino, un cucciolino di tre mesi, non abbiamo deposito, diciamo, di scoloculare, ma quando il cane cresce le pliche diventano ancora più evidenti e ancora più evidente è l'accumulo appunto di scoloculare che poi può andare a creare delle infezioni per il cane che possono essere veramente molto fastidiose. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.